Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo oggi ritornerò con i Cavedani a vista in fiume. Come si può notare dalla vegetazione bella verde, dagli alberi pieni di foglie, non è proprio questo periodo, quindi tranquilli, è della scorsa estate questo video. Dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, superiamo i 100 like per questo video e godetevi i miei primi tentativi con lo Speedex. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'ultimo. Ok 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 preso preso, bel cavedano. Guardatelo là Ok piano piano E il chiave d'anello Aspettate Sto tagliando Sto cercando di tagliare il filo Ok Ok Don't try this at home Ok ok Merda Ok 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 Guardate cosa mi tocca fare Ok C'è ancora c'è ancora Cavedano Ha intrecciato tutto Sto cave d'anello Pur di liberarsi Ok 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 Cosa mi tocca fare Ok Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Guardatelo qua Bel cave d'anello Bel cave d'anello Sul nuovo Seca Wopper popper Bellissima mangiata Il combattimento È stato un po' più difficoltoso Rispetto al solito Eh Viene dite Adesso lo liberiamo Ok Liberiamolo Qui Ecco qua Guardate È già pronto ad andare Guardate Bellissimo Stupendo Anche se avrei preferito Con un recupero Un po' più tranquillo Adesso Rinneschiamolo Preso Attaccato subito Al volo Avete visto Il cave d'anello Su Piccolo gerchetto Attaccato subito Piccolo E potente Via Uh Uh Su Viene No Si è slamato Non sono riuscito A ferlarlo Avete visto che attacco Ancora 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 Bene L'avete qua sotto Uh C'ho provato Se l'ho preso Uh Che tirata Preso proprio In punta in punta l'ho preso in punta ok ecco qua dai 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 guadagniamolo guadagniamolo l'acqua è basso qua io non posso andare sono a sprofondo vieni su vieni su vieni su costerebbe toglierlo da queste erbe ecco qua eccolo qua cavo d'anello con la optical e jerkbait già un po' più di taglia ce l'ho ce l'ho bel pesce bel pesce bel pesce bel pesce bel cavedano bel cavedano primo cavedano per la optical bel cavedano bello forzuto street fishing ai cavedani alla mata perfetta bel pesce bel pesce Sì, non è vero, non è vero. Grazie a tutti. Porca troia che attacco Qua sotto L'avete visto Sulla Mia Vecchia Tubertini Bel cave d'anello C'è che attacco potente da cave d'anello Sullo spoon da 2 grammi Con la mia finesse limited Cave d'anello non enorme Però Bel cave d'anello Qua Un guadino Slamato Perché amo singolo senza ardiglione Liberiamolo Da subito che vuole partire Buono Che city Eft день Eldrina Che E lottery Vedraine hygiene E Divina